Tra i tanti personaggi incontriamo Leo Bollettini, giustamente sta quasi a casa sua, possiamo dirlo? Pranzo e cena. Vabbè, quello che serve per andare avanti, per sopravvivere. Io sono bravo ad andare avanti. A parte le battute, no, anche perché Leo è un nostro partner come Circo Riviera delle Palme, insieme a Di Berardino. So che comunque di anno in anno fai sempre grandi cose, però quest'anno, vista che questa crisi sta un po' di più, forse coinvolgendo le associazioni devi fare qualcosa ma in maniera molto oculata. Ecco, il problema di quest'anno è stato il passaggio da un comune, cioè da un'amministrazione all'altra amministrazione. C'è stato di fatto un vuoto amministrativo proprio nel momento in cui normalmente tutte le associazioni culturali, quindi non voglio parlare solo del nostro circolo culturale di Di Berardino delle Palme, non ha potuto realizzare un programma adeguato. Quindi adesso probabilmente rimanderemo tutti gli appuntamenti a settembre, sarà una concentrazione nel periodo di settembre, comunque noi non annulliamo niente, andiamo avanti. Ecco, ti chiedo anche che da imprenditore come hai vissuto e come vivi questo cambio generazionale che c'è stato a livello di amministrazione comunale. Questa aggiunta totalmente nuova con personaggi che conosci, qualcuno ha avuto anche delle esperienze, però un qualcosa di novità che potrebbe anche servire per rilanciare la nostra città. Intanto dobbiamo dire questo, che l'amministrazione precedente ha aiutato le associazioni culturali nonostante le difficoltà. Sono convinto che questa amministrazione, Piunti, riuscirà a fare bene lo stesso, se non molto di più. Abbiamo un assessore alla cultura che è Annalisa Ruggeri, è una persona molto in gamba. Insomma contiamo su un riscatto e comunque dobbiamo dare smalto a questa città che in tutti questi anni l'ha perso sicuramente. Grazie a lei e buon'estate. Grazie a voi.